Ciao, sono Marco Liuzzi, ho 37 anni. Per me fare l'attore è una necessità. Ho bisogno, sento di avere bisogno di esprimere le diverse parti e forme della mia anima, col corpo, con la voce e con l'espressività. Mi piace rivestire i panni degli altri, quindi cercare di portare me stesso negli altri, in questa trasformazione e trasmutazione di corpi e di anime. Sono una persona eclettica, versatile, ma al contempo con dei valori, quindi credo nei miei valori e nelle mie idee, che sono principalmente il rispetto, la coerenza, l'onestà e la sincerità. Grazie.